Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io mi chiamo Maria e questo è il mio canale. In questo video voglio portarvi un vlog e appunto devo andare al Vomerola Mondadori a vedere l'onore caggero che deve fare il firmacopie. Allora, ora vi farò vedere come sono vestita. Allora, sono vestita in questa maglietta che ha tipo un choker qui. E questa maglietta c'è anche la mia mia amica di stanza, che viene lì e quindi la vedo per la nuova volta. Poi ho questo giacchettino perché è freddo. E questi pantaloni lunghi, jeans. Questo vi dico che ci vediamo dopo e vi farò vedere un po' tutto lì. Ciao! Allora, volevo dire che sono al McDonald's ora. E niente, appena arrivo lì vi faccio sapere. Ho questo libro, che è qui dentro. Sono al numero 117. Comunque ora mangio e ci vediamo dopo. Poi ho visto le mie amiche e niente, mi piace tantissimo questo libro. L'ho letto poco e lo leggo e lo leggerò a casa. Comunque ci vediamo dopo. Ciao a tutti. Allora, signori che mi guardano male. Comunque è il libro. E ora sto aspettando, sono al numero 117. Ciao a tutti, buonasera. Allora, sono appena tornata a casa. Questo è il fantastico libro che mi piace tantissimo. E' andata super bene. Mi sono divertita tanto a fare sia il vlog che lì. A parte che ho incontrato delle personcine molto molto speciali. Comunque, vi volevo dire che siete state molto molto simpatiche perché mi avete riconosciuta. E wow, mi avete resa molto felice. Il vlog finisce qui. Spero che vi sia piaciuto oppure vi abbia tenuto con te. Se volete passate anche nell'info box qui sotto che ho scritto tutti i miei social. E niente, al prossimo video. Un basso.